17 persone italiane e straniere a valio titolo o ritenute responsabili di associazione per delinquere a carattere trasnazionale dedita al traffico di clandestini sulla tratta balcanica, al traffico di armi al riciclaggio di denari preziosi, sono state arrestate dai carabinieri di Palermo. Le investigazioni hanno evidenziato connessioni dell'organizzazione criminale con Cosa Nostra Catanese, oltre che con membri del gruppo paramilitare albanese chiamato Nuovo UCK. Queste ultime finalizzata la cessione di armi da guerra. Nel dicembre del 2016 è iniziato il monitoraggio a Bolognetta del cittadino macedone Fatmir Liatifi, che collaborava con Giuseppe Giangrosso, palermitanio originario di Roccamena, in quanto sospettato di trafficare armi dall'area balcanica, di riciclare denaro proveniente da rapine, nonché di immettere nel mercato italiano valuta estera di provenienza illecita. Le indagini hanno consentito di far emergere condotte specifiche in ordine all'esistenza e alla piena operatività di due distinte strutture criminali, finalizzate al favoreggiamento dell'ingresso clandestino in territorio nazionale e in altri paesi dell'Unione Europea, di un numero indeterminato di soggetti, alcuni dei quali identificati, tutti provenienti dall'area balcanica, in cambio di denaro. La prima era diretta da un gruppo di kosovari, alcuni dei quali stanziati in Italia, nelle province di Como e Sondrio e altri in Svizzera. La seconda articolazione era gestita a Palermo da Fatmir Leatifi e Giuseppe Giangrosso. I due avevano costituito un'associazione per delinquere finalizzata a reclutare cittadini slavi da fare entrare in Italia per motivi di lavoro. A tale scopo avevano contattato il pregiudicato Dario Vitellaro, il quale aveva fornito la sua disponibilità a reperire una società compiacente in grado di assumere fittiziamente gli stranieri, al fine di consentire loro di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro e di conseguenza ottenuti documenti permettere agli stranieri di trasferirsi in altri stati dell'Unione Europea. Le indagini hanno anche dimostrato che Leatifi e Giangrosso sono stati gli ispiratori di una fitta rete di affari finalizzata a riciclare ingenti capitali illeciti. Nello specifico i due hanno costituito un'associazione per delinquere con vari soggetti con competenze e contatti variegati, con il Comune intento di associarsi stabilmente al fine di commettere una serie indeterminata di delitti in materia di riciclaggio trasnazionale, di danaro provenienti da furti e rapine a Bancomat, danaro da movimentare attraverso canali bancari, oro, provento di delitti contro il patrimonio, diamanti di provenienza illecita. Nel corso delle indagini è risultato che Leatifi si è occupato anche di commerciare armi da guerra, infatti è stato documentato che l'indagato è in possesso di armi corte e lunghe da guerra Kalashnikov, nonché alcune bombe, parte delle quali venduta recentemente a dei soggetti in area balcanica. Infine sono stati documentati tre distinti incontri riservati, due due quali è venuti presso l'outlet village di Dittaio e uno a Palermo, fra Giangrosso, Leatifi e un soggetto inserito nel contesto mafioso di Adrano, in quanto coinvolto in varie vicende giudiziarie per associazione mafiosa, rapina, traffico di stupefacenti e di armi. Nel corso di uno di questi incontri è stato anche identificato un nipote e il capo mafia di Belpasso, Giuseppe Polvirenti, detto Umalpassotu.